benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui con un nuovo episodio della blizzy academy il video di oggi mi è stato domandato in tantissimi e da parte di tantissimi di voi la scorsa settimana quando avete praticamente commentato il video dove chiedevamo dei consigli su come dare un po di novità e un po di brio ai nuovi canali con dei nuovi contenuti e molti mi avete domandato delle opinion riguardanti i capitani speciali ovvero quelle che si ottengono con i carbone con i gold con le campagne anche del passato e oggi sono qui per presentarveli per farvi capire un po come utilizzare al meglio considerando che io li possiedo praticamente tutti veramente tutti posso darvi credo un quadro piuttosto oggettivo generale e concreto di come poterli sfruttare al meglio e tra poco li vedremo insieme cominceremo con la marina imperiale giapponese avremo gli stati uniti l'unione sovietica e tutte le altre nazioni fino a poi a concludere con l'ultima che è la marina olandese possiamo quindi cominciare la prima cosa è da dire comandanti i capitani speciali sono di due tipi diversi i capitani speciali livello 1 e livello 2 i capitani speciali livello 1 li potete vedere tranquillamente perché sono questi hanno una scritta in bianco e hanno una stellina praticamente sempre bianca sulla loro sinistra questi sono tutti i capitani livello 1 capitani invece livello 2 come ad esempio yamamoto leggendaria figura realmente esistita chi non lo conosce è ucciso durante un ride a bougainville sulle isole di bougainville nel hour mai iniziata e oltre ad avere la scritta dorata che li contraddistingue hanno anche la stellina che è dorata quindi questo è abbastanza facile per definirli ovviamente sono comandanti molto più potenti e anche più difficili da ottenere ma la vera particolarità a differenza dei comandanti di capitani di livello 1 è questa è della skill set speciale hanno una barra extra superiore con dei bonus di attivazione che si attivano letteralmente durante la partita se riuscirete a raggiungere determinati standard statistici e obiettivi numero di sciluri numero di medaglie tipologia di medaglia è un numero di secondari assegno numero di aerei abbattuti insomma in base a un toddy di bonus si andranno attivare alcuni alcune abilità speciali che renderanno le vostre navi molto più forti rispetto ai normali standard di partita in random e in ranked in altre modalità spesso questi bonus sono disattivati cominciamo quindi con la marina imperiale del giappone sono tre i comandanti di questa marina qua per quanto riguarda ad oggi poi magari in futuro chi lo sa e sono i comandanti appunto di Yamamoto che si ottiene con la campagna la campagna di Yamamoto comandanti la trovate praticamente qua cliccate su profilo abbiamo messo anche in cliente in italiano apposta questa qui come potete dire collezione di Yamamoto una volta collezionate tutte le vostre medagliette insigne eccetera eccetera si attiverà qua troverete una barra per attivarla e queste cose le troverete direttamente nei vostri container quotidiani che sbloccate giocando le partite troverete questa collezione quando l'avrete completata otterrete oltre alla bandiera e altre cose anche il comandante isuruko questo vale anche per il comandante ilsi americano che poi vedremo dopo dicevo i comandanti e i giapponi sono praticamente tre oltre a Yamamoto che è leggendario abbiamo anche i comandanti taiko suzuki e raizo suzuki due fratelli quasi sempre comandanti tutte le marine principali hanno due comandanti che hanno lo stesso cognome in questo caso suzuki uno è questo e l'altro se non sbaglio è solo Yoshino Takeo sono praticamente identici cambia solo che uno è ottenibile con il carbone ben 35.000 mentre l'altro con i gold 1500 Takeo e raiko hanno praticamente le stesse abilità migliorate che sono praticamente le seguenti che potete vedere adesso abilità comandante per quanto riguarda gli incrociatori abbiamo solo abilità expert quindi non è assolutamente un comandante da incrociatori per le corazzette abbiamo la skill che è specialista delle riparazioni d'emergenza anche qui bypassabile considerano che quasi sempre le bbc appesi come prima skill prendono manutenzione preventiva caccia torpediniera ed è qui che i due comandanti suzuki vanno a lavorare per questa skill è diventata ormai importante sui comandanti di destroyer è un potenziamento superiore rispetto al normale esperto di sopravvivenza c'ha un bonus maggiore quando avete la stelletta praticamente bianca con sfondo verde su una skill vuol dire che selezionate quella skill avrete un potenziamento migliore rispetto allo standard quando la stelletta non è presente ecco perché i due comandanti suzuki sono buoni sulla rugumo e sullo shimakaze oltre che ad esempio sulla yate per quanto riguarda invece yamamoto leggendario uno dei miei preferiti è un comandante che secondo me offre il massimo su due tipi di navi diverse gli incrociatori e le batteship questo perché? perché se andiamo a vedere le sue skill set principale e andiamo a vedere incrociatori ha questo potenziamento che è molto utile sull'incrociatore lo zao come sapete è un incrociatore da movimento si muove spesso e è ingrassiatore di incubaggiamenti va a migliorare la rotazione delle torri e quindi i vostri colpi collimeranno prima nel punto grazie a un brandeggio migliorato per quanto riguarda il cacciato penieri secondo me questa skin è tranquillamente bypassabile mentre questa sicuramente è utile è un'utenzione preventiva quindi secondo me sui destroyer è un ni non è né sì né no, è una via di mezzo ma secondo me c'è di meglio ed è qui che Yamamoto può dare veramente al massimo le corazzate le porterie i comandanti non le trattono non voglio sapere niente anche se alcuni hanno dei bonus migliorabili anche sulle porterie come ad esempio Yamamoto eccoli qua queste due skill sono entrambe fondamentali per le corazzate sia il brandeggio torri migliorato come sapete sulle batteship giapponesi è pessimo sia la mutazione preventiva quindi l'abilità di assorbire maggiormente i danni maggiore resistenza dei vostri moduli come i cannoni, le torri sui colpi degli avversari per quanto riguarda invece le skill principali attivazioni ne ha due Yamamoto la prima è riserva d'emergenza che va a migliorare di un numero dei vostri consumabili quando fate first blood ovvero la prima kill la prima kill della partita può capitare raramente con una corazzata ma può comunque capitare mettete magari un incrociatore che arriva dal broadside vi entrano tre cittadelli e lo fate saltare per aria quindi è una possibilità e poi abbiamo questa che è la vera arma in più di Yamamoto seconda possibilità guardate questa skill è potentissima si attiva solo quando Yamamoto scatena il kraken quando tiene il kraken lui non solo comincia a recuperare HP per 120 secondi per due minuti comincia a recuperare puntività quindi la nave è sicura ma oltre a questo soprattutto va a migliorare il tempo di ricarica di cannoni principali che scende del 34% ci sono dei video su youtube che fanno veramente power dove vedete Yamamoto con la Yamato che spara come se fosse uno Stalingrad e disintegra tutto quando Yamamoto a bordo della Yamato raggiunge il kraken è la morte per gli avversari perché la Yamato aumenta un DPM in maniera immostruosa lavorando anche tra l'altro con Adrenaline Rush che come sapete è un must sulle coratate ma su tutte le altre navi quindi a quel punto la Yamato butta fuori piombo come una fonderia e quindi diventa assolutamente terrificante per gli avversari Yamamoto è chiaramente un comandante che funziona benissimo su Nagato Musashi Yamato Shikishima Satsuma tutte le grandi navi da battaglia giapponesi quindi io ve lo consiglio su quella o al massimo sullo Zao questo per quanto riguarda la marina giapponese passiamo ora agli Stati Uniti tutti i comandanti hanno anche loro il loro comandante leggendario che è l'ammiraglio Eulsei e si ottiene praticamente con una campagna sempre attraverso il profilo e attivandolo con le medagliette come vi ho fatto vedere prima quindi sbloccandolo giorno dopo giorno conquistando dei punti attraverso attraverso quella campagna l'ammiraglio Eulsei anche lui realmente esistito figura leggendaria l'ammiraglio della flotta con a capo l'Enterprise è un comandante che ha diverse skill di miglioramento e diverse skill basi improvate anche lui esattamente come Yamamoto ha ingrassatore di equipaggiamenti quindi molto utile ad esempio su una Yamaha su una Vermont sulla Montana o sull'Ohio ma poi soprattutto ha questa che è alimentatore di cannoni è praticamente l'abilità che gli permette di cambiare più velocemente il cannone da HE a P o il contrario se avete questo munizionamento quando il colpo è già in canna ed è una cosa particolarmente utile ad esempio sulla Montana o sulla Ohio se avete già infatti il colpo magari il colpo HE lì dentro e vi serve passare velocemente a P con questa abilità avrete il 75% in più di tempo di ricarica quindi la ricarica sarà molto più veloce lo switch rispetto al classico 50% quindi in tal senso è un ottimo comandante sulle corazzate il talento base migliorato va a migliorare diciamo la ricarica dei canoni sulle corazzate tempo di ricarica principale meno 20% come poi anche sugli incrociatori si attiva con la medaglia confederato ovvero quando ottenete la medaglia confederate quella che ottenete quando fate un tot di danni su tante navi diverse è molto difficile ottenere quella medaglia dovete sparare veramente tanto ecco perché secondo me a differenza ad esempio di una corazzata probabilmente la medaglia confederate è molto più facile di ottenerla su un destroyer ma soprattutto su un cruiser ecco perché secondo me il differenza di Yamamoto rende molto di più sugli incrociatori tra l'altro ricordatevi sempre ad esempio il Des Moines è una nave che ha delle api straordinarie ma ogni tanto incendia tantissimo avere sempre lo switch è molto utile quando magari qualcuno vi carica e vi serve il colpo incendiario il più in fretta possibile va detto che magari con questo incrociatore utilizzete molto meno questo perché come sapete il Des usa quasi sempre i cannoni anteriori come anche il sale quindi diciamo che incrociatori di prima fascia e per quanto è seconda fascia secondo me è direi di mettere il discorso legato alle batteci per quanto riguarda i destroyer sì ci sarebbe anche questa skill che è molto utile ovvero praticamente quando fate doppio colpo vuol dire fare due kill in pochissimi secondi è molto molto raro praticamente aumenterà le sue capacità stealth questa potrebbe essere molto utile sui destroyer però fare doppio colpo double strike è veramente molto difficile quindi anche qua dipende un po' da voi le skill comunque migliorate come potete vedere sono sempre le stesse anche sugli altri sulle altre classi navali la cosa non cambia sempre identiche per quanto riguarda invece gli altri due comandanti diciamo standard della marina degli Stati Uniti sono praticamente John Do e George Do quindi sempre il discorso legato ai due fratelli e sono qua sul Puerto Rico e sul Salem navi comunque commesso a caso John Do e George Do sono ottenibili uno si ottiene con il carbone 35.000 mentre l'altro 1.500 di dobloni hanno un potenziamento simile a quello del comandante precedente anche loro vanno a migliorare lo switch dei proiettili e il brandeggio torri ecco perché sono molto utili sulle corazzate questo ad esempio potrebbe essere molto utile sulla montana la montana è una corazzata che si muove spesso ha 4 torri trinate quindi avere sicuramente un brandeggio torri potrebbe migliorare quando siete in kiting o dovete cambiare lato e far girare prima i vostri torri principali per quanto riguarda le altre skill secondo me i due comandanti do sono tranquillamente bypassabili sui destroyer queste skill sono assolutamente secondarie quindi John Do e George Do sono sicuramente butt ship e o cruiser dipende un po' dalla vostra scelta sul porto rico sicuramente ma in pochi ce l'hanno John Do può lavorare bene con il brandeggio torri migliorato ci sarebbe poi un discorso da fare a parte per il comandante Ovechkin Ovechkin è un comandante rarissimo c'è in 4 versioni diverse di cui una addirittura che è praticamente questa che è un comandante universale lo potete utilizzare sia sugli Stati Uniti che per l'America il problema comandanti è che non è più ottenibile si otteneva come una vecchissima campagna del 2018 quindi è inutile anche solo trattare in ogni caso secondo me Ovechkin dà il meglio di sé sui destroyer questo perché a differenza di altri comandanti americani lui è unico nel suo genere perché ha questa skill qua sovrability expert quindi esperto sovrability esattamente come Suzuki per il Giappone nelle sue versioni americane dà il meglio di sé a bordo dei destroyer quindi Ovechkin se ce l'avete è assolutamente comandante di destroyer e ovviamente dovete utilizzare i punti per sbloccare quella skill altrimenti è inutile facciamo poi praticamente alla marina dell'unione sovietica e qua le cose si fanno un po' più interessanti perché comandanti qua c'è un comandante che si può ottenere non con la campagna come Ulsei e come ad esempio Yamamoto quindi qua richiede un sborso importante di carbone ma ha fatto un discorso a parte per il grande comandante Kuznetsov che tra l'altro è a bordo di questa nave eccola qua il Petropavlovsk Kuznetsov comandanti è un comandante che in passato teneva con una lunghissima campagna e oggi si ottiene con un carbone tantissimo carbone ben 175.000 è spaventosa questa cifra però vi assicuro che è un comandante straordinario sia a bordo dei cruiser sia a bordo delle corazzate è lì che Kuznetsov offre il meglio di sé questo perché ha questi due skill che sono entrambe molto importanti per le battleship la prima è questa ed è la vero e proprio cuore di Kuznetsov è un'abilità che si attiva automaticamente sempre quindi non dovete per forza fare un achievement o ottenere una medaglia quando la nave arriva al 10% scende sotto il 10% di integrità e state praticamente morendo si attiva volontà di vittoria spengono spenti automaticamente flooding o incendi a bordo della vostra nave quindi cruiser battle cruiser e battleship sono sicuramente interessate a questo aspetto e la nave comincia a recuperare hp per circa 30 secondi lo 0,25% quindi è un extra praticamente hp sulla vostra nave una cura gratis a tutti gli effetti e oltre a questo la nave praticamente aumenta al 20% la sua dispersione vuol dire che il nemico quando vi spara contro avrà un malus quindi sarà molto meno preciso del solito quindi a tutti gli effetti una skill difensiva potentissima ecco perché battle cruiser e battleship che tankano ne beneficiano tantissimo per quanto riguarda le skill base Kuznetsov per quanto riguarda le corazzate non offre poi scusate per l'incrociatore non offre poi grandi standard questo diciamo che potrebbe essere maggiormente utile per quanto riguarda il tempo dei consumabili ma per quanto riguarda i cruiser su visite non c'è poi tanto da scegliere in tal senso per quanto riguarda invece i cacciatori peigneri il discorso è identico per quanto riguarda invece le corazzate la skill non cambia ecco perché secondo me è battleizzato principalmente per questi due motivi per i due talenti principali tra l'altro non ho tratto primo sangue anche qui esattamente come il comandante Yamamoto aumenta praticamente di uno dei vostri consumabili qui è un po' copiato dal comandante giapponese però a differenza di Yamamoto che deve fare Kraken per avere quel super eh quel super bonus lui praticamente si attiva ogni volta che cercate di morire tante volte mi ha salvato la vita questa skill veramente in condizioni estreme ecco perché l'ho messo sul Petro Pavlos che come sapete è un incrociatore che porta al tanking quindi Petro Pavlos Stalingrad questi grandi incrociatori difensivi con grandi armature sicuramente beneficiano del suo lavoro e poi ovviamente la grande Kremlino la Kremlino comandante a differenza della Slava è una battesci da prima linea quindi Kuznetsov ci va praticamente a nozze vediamo poi ai due comandanti eh livello 1 che sono a bordo della marina sovietica sono praticamente i fratelli Zemenski sono Viktor Zemenski e Vassili Zemenski entrambi hanno le stesse skill come Suzuki e come Do per quanto riguarda gli Stati Uniti eccole qua ingrassatori di Erganaggi e questo è il motivo principale per cui ho messo Zemenski sul Neski è un incrociatore da movimento deve spostarsi deve spesso girare andare in kiting quindi le torri girano spesso avere miglior brandeggio possibile lavora tantissimo e vi permette di essere molto più veloci nel far collimare i colpi per quanto riguarda poi altre altre classi navali per sfruttare Zemenski sicuramente i Destroyer per quanto riguarda le gun bot sovietiche come ad esempio il Kavaros che è premio ma anche il Grozovoi è ingrassatore di quei abbeggiamenti ma soprattutto è una ottenzione preventiva quindi anche in tal senso funziona anche sui Destroyer e sugli incrociatori ovviamente non c'è quel modulo quindi c'è poco da fare non lo potrete sbloccare per le corazzate volendo è utile anche per le corazzate quindi Zemenski veramente è un comandante totale perché anche qui l'ingrassatore di ingranaggi va bene sulla Cremlino e soprattutto questa skill qua potentissima sulla Cremlino è una ottenzione preventiva migliora la forza difensiva dei moduli esattamente come l'haiamato quindi anche qua Batteship e Cruiser sicuramente hanno un'arma in più rispetto alla classe Destroyer quindi Zemenski Cruiser e Batteship secondo me ha il senso è il modo migliore per sfruttarli anche loro esattamente come Do e i Suzuki uno si sblocca per 1500 gold e l'altro praticamente si sblocca per 35.000 di carbone secondo me è a differenza dei comandanti Suzuki è sicuramente superiore quindi potrebbe anche valere i 35.000 di carbone se non volete prendere il grande Kuznetoff che comunque secondo me vale assolutamente la pena per qua bisogna fare un discorso a parte per quanto riguarda Kuznetoff vi faccio vedere l'armeria intanto e vi faccio vedere i comandanti so che tantissimi di voi comandanti molto spesso immagineranno diranno ma Blizzard e col carbone si prendono le navi perché mai dovrei prendere dei comandanti speciali beh comandanti dipende sempre da due cose la prima quanto tempo pensate di restare qua su World of Worship se pensate di restare poco tempo allora prendere la nave è la scelta migliore ma se pensate invece di prendere di restare tanto tempo qui a giocare sicuramente investirlo su alcuni comandanti che vi piacciono di marine che giocate tanto può avere senso perché alcuni di questi comandanti come ad esempio questo che vedrete da poco o questo che avete già visto fanno veramente la differenza quindi vi assicuro che in tal senso questi comandanti vi faranno veramente divertire parecchio vi faranno vedere le navi in maniera totalmente diversa passiamo ora alla Kriegsmarine quindi la marina tedesca e anche qui abbiamo a disposizione ben tre comandanti abbiamo infatti il comandante Luthiens il comandante Von Jutland e Reinhard Von Jutland quindi sempre il discorso legato ai due fratelli cominciamo con il comandante leggendario Luthien che ovviamente è sulla Schifflein che secondo me è la nave che beneficia maggiormente dei suoi incredibili benefici Gunnar Luthiens anche lui come Cusnitz con una cifra spaventosa di carbone di 175.000 ma vi assicuro che su questa carazzata ne vale assolutamente la pena praticamente lui cos'ha a livello di stalenti base ha ovviamente anche lui ingrassatore di inquepaggiamenti in questo caso non lo utilizziamo perché è già buono il brandeggitore di questa nave e poi ovviamente sempre un discorso legato alla resistenza migliore dei moduli ma il vero succo di questo comandante sulle battleship è questo ed è praticamente servente di batteria secondaria aumenta del 15% la ricarica dei vostri coni quindi spara più velocemente quando i vostri colpi superano i 100 volte assegni in una partita nelle random battle o nelle ranche di secondaria capite anche voi che è una cosa normalissima per una battleship che arriva a 12 km di secondaria ecco perché lui funziona benissimo su una nave del genere va detto che Luthien ha anche delle capacità straordinarie per quanto riguarda questo talento che però è molto più difficile di attivare sulle corazzate praticamente sono 300 HP al secondo per un tot di secondi quando praticamente voi spottate tre navi nemiche che vengono conteggiate e una alla volta quindi diciamo che su Destroyer può capitare molto di più sicuramente però anche sulla corazzata quando magari rimanete in pochi in acqua può sicuramente accadere c'è poi una skill di potenziamento sulle porterie che però come detto prima noi non trattiamo e poi c'è questa qui che secondo me va benissimo su Destroyer ma anche su Lindenburg perché sparare 140 colpi con Lindenburg non è assolutamente difficile e chi gioca a Lindenburg lo sa molto molto bene per quanto riguarda gli skill base di Luthien sulle altre navi corazzate incrociatori ha sempre ingranaggi migliorati per quanto riguarda il cacciatore veniere sempre sul discorso legato alle battleship quindi secondo me questi tre moduli questi tre talenti speciali gli permettono di essere un comandante totale è il primo vero comandante totale del gioco secondo me perché lui va bene su qualsiasi cosa Destroyer Battenship Cruiser lui può giocare su tutto Luthien va bene ovunque dovunque lo mettiate perché su Destroyer lavorerà tantissimo con questa skill e con questa sulle Battenship lavora con questa su Cruiser lavorerà su questa e magari anche su questa quindi comunque è un comandante totale secondo me in questo momento è forse il comandante migliore a carbone di tutto il gioco Luthien per quanto mi riguarda perché veramente lo potete riciclare in ogni dove in ogni dove per quanto riguarda invece gli altri due comandanti speciali invece i comandanti Von Newtland il discorso è un po' diverso perché sono comandanti che secondo me si possono tranquillamente bypassare ovviamente non hanno i talenti speciali dei comandanti livello 2 e hanno delle skill improvate che sono abbastanza inutili qui lo vediamo ad esempio Von Newtland che ha una resistenza migliore nel assorbire i danni torpedo ma è un qualcosa che è una skill che non usa nessuno questa sulle corazzate e poi la classica specialista di consumabili che anche qua il discorso è molto molto raro il suo utilizzo su nessuna classe navale non solo sulle corazzate quindi secondo me i 35.000 di carbone di Von Newtland o i 1500 di gold vi potete tranquillamente risparmiare perché sono entrambi due comandanti che potete tranquillamente bypassare e assolutamente lasciar perdere quindi Reinhard Von Newtland e Franz Von Newtland sono assolutamente bocciati per quanto mi riguarda mentre Luthien è promosso a pieni voti passiamo ora alla Royal Navy quindi alla Marina Britannica chiamo praticamente il comandante Cunningham anche lui si ottiene con 175.000 di carbone poi abbiamo Jack Dunkirk e Bert Dunkirk e occhio a Jack Dunkirk perché è un comandante gratuito perché si ottiene con alcuni diciamo una collezione che si può avere ancora oggi collezionando dei container dedicati questo è il comandante Cunningham anche lui realmente è esistito figura leggendaria della seconda guerra mondiale tra l'altro molto attivo nel Mediterraneo dove ha fatto un culo così all'Italia attaccando spesso era a bordo della Warspite questi sono praticamente i talenti speciali che lui può attivare bottino di equipaggiamenti praticamente lui si attiva quando tu distruggi due navi avversari nel corso della partita e ti permette quindi di avere un numero di consumabili aggiuntivo è una cosa che capita spesso di fare due chili in partita poi ha questa skill praticamente che va a trattare la velocità della nave e la velocità di gruppo del volo quindi anche la portiera in tal caso e si attiva praticamente solo una volta nel match quando praticamente voi dovete questo sapete che non può essere attivato una sola volta la batteria a causa degli allegamenti questo non me la ricordavo nemmeno io tra l'altro quindi chiaramente è una skill che si attiva o con la porteria o con il destroyer e poi infine questa che è la vera feroce la vera e propria skill più potente di Cunningham ovvero un 10% di miglioramento delle batterie dei principali dei tubi lanciosi luri e dei gruppi di volo nel caso in cui giocate con una porteria della Royal Navy e si ottiene con devastatore che è una medaglia comandanti che si ottiene piuttosto facilmente quando incinate parecchio gli avversari quindi è sicuro che se fate la medaglia degli elementi può capitare spesso a bordo di una conqueror di una thunder di un goliath soprattutto ecco perché ce l'ho a bordo del goliath questa skill lavora benissimo e i vostri come dispareranno ancora più velocemente quindi secondo me lui è adatto sia sulle battleship che sui destroyer che sui cruiser ma essenzialmente secondo me sui destroyer forse che Cunningham riesce a sfruttare meglio di sé è il primo vero comandante che forse dà proprio il 100% sui destroyer e quindi sicuramente se avete un daring è sicuramente il comandante migliore che potete metterci sopra è proprio il primo vero comandante forse top destroyer del gioco a differenza degli altri che avete visto precedentemente quindi sicuramente io Cunningham lo metterei a bordo del daring per quanto riguarda invece gli altri due comandanti sono appunto Jack Dunkirk e Bear Dunkirk e sono comandanti molto molto utili per skill di base perché hanno veramente delle skill importanti ingrassatori di equipaggiamenti vediamo poi la miglioramento della durata dei consumabili quindi non solo il radar o il sonar ma anche la cortina fumogena se utilizzate il monitor con la cortina fumogena e poi specialista di consumabili come avete visto prima è una skill che in questo caso si interessa sempre di meno per quanto riguarda Jack Dunkirk io lo utilizzo sul monitor ma anche sul primo si potrebbe tranquillamente utilizzare ma è utilizzabile anche perché no su un destroyer tranquillamente perché questa skill vale migliorare leggermente i consumabili e soprattutto la ricarica dei consumabili dei vostri appunto consumabili speciali a bordo dei vostri DD per quanto riguarda le corazzate Dunkirk sicuramente è anche utilizzabile qua come sapete il brandeggiatore delle battleship inglesi è piuttosto scarso e lui gode di un ingrassatore di compaggimenti migliorato quindi sulle battleship sicuramente Dunkirk può essere utile ecco perché secondo me i 1500 di gold o magari semplicemente completando la missione per ottenere Jack Dunkirk sicuramente vi permetterà di avere un buon comandante da utilizzare perché no anche sulle corazzate quindi sicuramente vale la pena completare le missioni e i container di Jack Dunkirk passiamo ora praticamente alla marina francese dove vediamo praticamente il comandante Abognier che è quasi impronunciabile Philippe Abognier è anche lui ottenibile praticamente all'interno dell'armeria per 175.000 di carbone è un altro dei comandanti full destroyer è arrivato dopo rispetto a Cunningham ma è sicuramente un altro comandante full destroyer anche lui gode come potete vedere dell'esperto di sopravvivenza che migliora gli HP come sapete i dd francesi non hanno la cortina fumogena quindi sono delle navi che giocano spesso in mare aperto e vengono spesso spottate quindi avere sicuramente più HP a bordo è sicuramente un vantaggio per questo comandante ma soprattutto se guardate sono le skill speciali che lo rendono veramente un comandante da destroyer cominciamo con balzo in avanti ogni volta che voi fate 2 milioni di danno potenziale sono tanti lo so sono tanti per un destroyer avete un 8% in più di velocità che è già tanto sui dd francesi considerando che sono dei missili in acqua poi avete questa skill che è molto più facile da attivare sui dd si attiva praticamente con 1 o più per cento di fire chance ogni volta che voi catturate una base è una cosa che ok voi giocate spesso lontani dalle basi perché avete un pessimo consome con i dd francesi però può capitare di conquistare una base che magari è vuota o semplicemente perché cercate di conquistare una base perché non dovete fare altro in quel momento quindi sicuramente una fire chance in più può essere d'aiuto per quanto riguarda la vostra nave e infine abbiamo sfrenato sfrenato praticamente è uno skill che si ottiene con colpo devastante quindi un devastating strike che può entrare magari con qualche salva fornata dei cannoni oppure anche di torpedo in questo caso aumenta del 5% il caricamento della batteria principale oppure o anche nel caso in cui abbiate i siluri a bordo come i destroy francesi è il tempo di ricarica dei tubi lancia siluri quindi spara più velocemente i siluri ho detto che è un comandante da da destroyer però comandi c'è una cosa da dire riguarda praticamente le battleship e nel caso particolare sto parlando della republique come sapete la republique francese ha già una ricarica molto buona ed è anche un canone particolarmente preciso è colpo devastante cioè fare devasting strike con la republique non è impossibile perché comunque magari beccate non so un cruiser broadside tripla cittadella devasting strike e voi attivate sfrenato quindi ok che a bonier è sicuramente un comandante da destroyer nulla da dire al contrario però secondo me come opzione si potrebbe mettere anche sulla republique e perché no sulla bourgogne sicuramente sulla bourgogne o sulla republique anche perché guardate un po' 2 milioni in danno potenziale la battleship li fai come certo quelle francesi soffrono un po' di più per colpa del loro rivestimento da 32 mm che è abbastanza schifoso quindi vengono incendiate più facilmente però questo è un altro bonus che è facile da raggiungere per una corazzata quindi a bonier per quanto riguarda sicuramente la skill la seconda scelta dopo il destroyer sicuramente la corazzata va in tal senso per quanto riguarda i cruiser sono un po' più scettico secondo me sui cruiser non è un gran che però destroyer in seconda linea battleship è sicuramente la scelta migliore per il leggendario comandante francese per quanto riguarda gli altri due comandanti francesi andiamo praticamente Jean-Jacques Honoré e Charles Honoré sempre discorso legato ai due fratelli tanto per dirla questa pratica praticamente è Jean-Jacques Honoré si ottiene con praticamente la collezione vive la france che è ancora oggi ottenibile esattamente come Dunker quindi lo si può ottenere gratuitamente semplicemente attivando quella connessione attraverso le collezioni e lui ha una cosa particolarissima ha questa skill qua scarica l'adrenalina che è potenzialmente fortissima perché è un bonus tra i più importanti per quanto riguarda i capitani livello 1 dall'altro Jean-Jacques Honoré è uno dei comandanti più vecchi del gioco all'interno di World of Warships questo comandante lo si può utilizzare un po' ovunque Destroyer Battleship Cruiser e Adrenaline Rush è presente su qualsiasi tipo di nave quindi è uno skill fondamentale che lavora sempre certo sulle corrette dei suoi cruiser sicuramente l'ingrassatore di equipaggiamenti lavora di più perché le torri girano molto meno però non vi biasimo se lo utilizzerete su un Kleber o su un Marsau quindi è un comandante veramente totale super super utile super consigliato uno dei migliori comandanti secondo me livello 1 del gioco che va assolutamente utilizzato su qualsiasi nave francese dove viate praticamente a disposizione e lo stesso vale ovviamente per il suo fratellino Charles Henry Honoré che è identico a livello di bonus come potete vedere esperto di ingranaggi e poi abbiamo scaricato di adrenalina per quanto riguarda poi la marina italiana qua il discorso è piuttosto veloce perché c'è un solo comandante ed è Sansonetti che si ottiene anche lui gratuitamente con la campagna che potete vedere praticamente qua ve lo faccio direttamente vedere tanto in un attimo dura andate praticamente qua su container e sono questi eccoli qua con risolutezza con rapidità questa collezione una volta completata questi sono praticamente i container ma la collezione praticamente la si vede tranquillamente nel profilo in questa circostanza è qua nascosta da qualche parte non ho più l'idea dove sia ma è sicuramente qua da qualche parte comunque attraverso qua troverete sicuramente dovrebbe essere questa eccola qua una volta completate le varie quattro sessioni quadruple di missioni avrete praticamente un disposizione il comandante Sansonetti oltre che anche un simpatico simbolo da utilizzare sul vostro profilo quindi è completamente gratuito ecco perché vale la pena prenderlo Sansonetti secondo me va utilizzato al meglio su due classi navali le corazzate e gli incrociatori per quanto riguarda gli incrociatori è utilissimo per via di questa skill base che è alimentatore di canon esattamente come abbiamo visto su Cunningham su Yamamoto lo switch veloce dei colpi considerando che le AP italiane sono molto sottovalutate è sicuramente utile perché potete switchare più velocemente i colpi da SAP ad AP poi però ci sono una serie di vantaggi enormi che se non senti può sbloccare grazie alle sue incredibili abilità a livello 1 cominciamo con riserve nascoste che siete praticamente quando colpite 100 volte una nave nemica una cosa estremamente facile da fare con il Venezia e praticamente questo vi permetterà di avere un aumento del tempo di azione di tutti i vostri consumabili della nave quindi una cosa che con il Venezia si attiva particolarmente velocemente anche con i DD con la Columbia è quasi impossibile ma con i Destroyer e con le Battici e con i Cruiser sicuramente molto utile quindi anche qua sicuramente Cruiser Destroyer vediamo questa che è la vera ragione forse per cui io lo metto spesso sul Cruiser sul Venezia è una vero lunga portata aumenta dell'8% la gittata dei vostri canoni principali ogni volta che distruggete una singola nave nemica quindi nel Venezia è molto facile cancellare i target l'alfa è molto alto anche se spara lentamente avere l'8% in più di fire chance di raggio di azione dei vostri canoni su un Cruiser che non spara poi lontanissimo come il Venezia può essere sicuramente molto utile e infine fuoco rapido altra skill che va sicuramente a lavorare tantissimo sul Venezia perché si ottiene con il Confederate esattamente come il talento speciale che avete visto su Elsie il comandante americano qui però lo si può attivare anche sulla Coristoforo Colombo effettivamente quindi anche qua questa è una skill che in realtà è Batteship Cruiser però secondo me è maggiormente sul Venezia va detto che appunto sulle Batteship perché lo si consiglia oltre a quelli speciali che vi ho fatto vedere prima prevede questa skill sempre questa molti sottovalutano il fatto di switchare i colpi da SAP ad AP sui 381 italiani vi posso assicurare che spesso può fare la differenza perché i 381 italiani hanno una penetrazione elevatissima e possono trovare la Cittadella tantissimo contro le Corazzate ma non è vero che le Batteship italiane si utilizzano solo full SAP o almeno non tutte a tier 10 no quindi la Colombo questa skill è molto preziosa per lei anche se comunque avevo detto prima secondo me Sansonetti è più Cruiser che Batteship e Destroyer lo lascerei come ultima risorsa a disposizione per quanto riguarda la scelta del comandante italiano vediamo poi ora adesso al reparto Panasiatico che è tra l'altro il terzo ultimo che tratteremo oggi sono due i comandanti Panasiatici sono Darong e Quarong sono praticamente identici quindi ne trattiamo solamente uno sono entrambi livello 1 quindi non hanno skill ad attivazione e sono entrambi i comandanti che secondo me sono utili sui Destroyer principalmente oppure sui Cruiser che comunque sono una seconda via prevedi questa skill Sovrability Expert è una skill praticamente ad attivazione che migliora non ad attivazione ma skill base che va a migliorare gli HP della nave è sicuramente molto più presente sui Destroyer che sui Cruiser anche su quelli Panasiatici sicuramente può fare il loro anche perché poi avete sempre discorso l'esperto demolizione che aumenta il Fire Chance della vostra nave se potete vedere questa doppia abilità è presente anche sugli incrociatori quindi non cambia le corazzate ovviamente sono solo premium quindi è anche inutile trattarle anche perché non serve l'esperto demolizione su una corazzata almeno non su quelle Panasiatiche sicuramente quindi Destroyer oppure Cruiser i Panasiatici funzionano in tal senso in entrambi i modi quindi vanno bene su entrambe le tipologie di navi per quanto mi riguarda anche se forse sui DD qualcosa in più probabilmente lo danno andiamo poi al discorso legato ai Destroyer della Pan Europa e qua abbiamo un comandante leggendario il comandante Rzwinski è l'ultimo comandante leggendario della sequenza di oggi 175.000 di carbone per sbloccarlo in passato si poteva ottenere gratuitamente con una campagna durante il periodo di lancio dei DD Pan Europei è un comandante che può essere utile ovviamente sia sullo Smalland che sull'Halland ma personalmente io lo preferisco di più sull'Halland e vi spiego perché per questo motivo esperto di siluri a differenza dello Smalland come sapete l'Halland ha siluri più veloci ne ricarica più velocemente e ne lancia di più questo fa sì che l'Halland sia una maggiore torpedo bot rispetto allo Smalland che è un DD Killer è un anti-destroyer di conseguenza questa skill che si attiva e permette una ricarica ancora più veloce dei vostri torpedo secondo me lavora molto di più sull'Halland rispetto che sullo Smalland ci sarebbe poi anche questo discorso da fare esperto della contraerea come sapete l'anti-area dell'Halland è superiore rispetto a quella dello Smalland specie quando utilizza il Defense Fire ecco perché questi due bonus sono più facili da attivare su un destroyer come quello della linea rispetto a quello premium che tra l'altro non è più ottenibile ecco perché sicuramente Swirsky sull'Halland è una bestia io vi posso assicurare che è uno dei comandanti destroyer più utili del gioco insieme probabilmente a Cunningham e al comandante Luthien che è un comandante totale come ho detto prima però veramente se vi piace il destroyer panneurope vi posso assicurare che il comandante Swirsky vale assolutamente la spesa e poi Adrenaline Rush è il secondo comandante dopo praticamente onorei ad avere questa possibilità quindi Adrenaline Rush improvato è un must sui destroyer perché veramente trasforma l'Halland in una nave che ha gasiluri ancora più efficiente di quanto non sia già in realtà oltre ovviamente che a migliorarne i cannoni principali quindi Swirsky veramente grande comandante assolutamente promosso in tanti tantissimi lo sottovalutano ma è veramente molto molto forte vediamo poi all'ultimo reparto che è il più inutile secondo me e ovvero i comandanti i comandanti olandesi che sono due il comandante Klaas Janssen che si ottiene praticamente con il carbone e il comandante De Ruiter sono praticamente identici hanno lo stessa tipologia di bonus attivabili e sono praticamente i seguenti esperti di demolizione e addestramento per il fuoco concentrato che va a aumentare sia l'antiaerea che qualcosina in più per quanto riguarda il tempo di ricarica dell'armamento incursionare come sapete è una delle armi principali degli incrociatori olandesi ecco perché ha basato su questo e non sul Groningen anche se comunque sul Groningen questa skill potrebbe comunque essere utilizzata è un comandante comandante che questa 35.000 carbone io ve lo sconsiglio non ha nessun verale vantaggio se guardate le corrate dei olandesi non ci sono e chissà se un giorno ci saranno quindi comunque è tranquillamente bypassabile ve lo sconsiglio non spendete carbone gold o risorse per il comandante speciale olandese che è sicuramente il meno utile di tutto il video di oggi quindi ve lo sconsiglio fortemente quindi comandanti questo era praticamente il video che mi avete richiesto per quanto riguarda i comandanti speciali spero di avervi dato comunque delle informazioni utili se avete delle domande fatele pure nei commenti vi ricordo che stiamo orlando la settimana su Twitch dopo le 8 e ringrazio tutte le persone che supportano i nostri canali con Amazon Prime in maniera gratuita abbonandosi su Twitch comandanti come sempre io vi aspetto in un nuovo video e per oggi è tutto comandanti da Blizzard e da Mr. Grey che domani compie gli anni buona caccia che domani compie gli anni